Cosa? No, 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 no. Lo hai già detto a qualcuno? Così non troverà mai un lavoro. Cosa ha detto? Facile che diventa un drogato. Oh, mio Dio. È solo una fase, sicuramente gli passerà. Sì, si dice sempre così. E poi rimangono uguali per tutta la vita. Lo sai che sono sempre stato favorevole a queste cose. Ma se prosegui per questa strada io non ti posso aiutare. Così non sarà mai felice. Questa è tua madre, eh? Che gli ha sempre messo delle strane idee in testa. Cosa c'entra mia madre? Sei tu che hai dato degli ideali sbagliati a tuo figlio. Ma non ti azzardare a parlarmi con... Non ho capito cosa ha detto. Ha detto. Ha detto che... Voglio fare la scuola di cinema. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.